A Policastro Bussentino l'evento al cinema con i protagonisti, siamo in compagnia di Fabio Fulco alla sua prima volta da regista, come mai ha scelto di presentarlo a Policastro? Per vari motivi, il primo è che io sono quasi residente qui, non sui documenti ma io ho casa qui, un paesino qui vicino, da quando sono nato, per cui mi sento un nativo di questa zona, per cui ci tenevo particolarmente. Quando il sindaco di Policastro Giovanni mi ha chiesto di portare il film qui, devo dire mi ha fatto un bel regalo, è una cosa a cui tengo particolarmente, ci tengo, mi sento a casa, io sono napoletano ma è come se avessi avuto una doppia nascita, mia mamma era incinta di me quando hanno comprato casa qui, quindi tutta la mia gioventù l'ho fatta qui, quindi è un piacere, un onore presentare il mio film qui. Lei è anche attore e stavolta regista, quali sono le differenze, quale ruolo le piace di più? Io ho scelto nella vita di fare l'attore ed è ancora quello che mi piace fare, è ancora quello che mi appassiona, che mi dà emozioni, in questo caso ho scelto di fare la regia perché era una storia scritta da me insieme ad un altro ragazzo che si chiama Fabrizio Quadroli, insomma era una storia nostra e ci siamo resi conto ad un certo punto che proponendola ad altri registi diventava qualcosa di diverso, per cui veniva un po' snaturata. Il produttore, Claudio Bucci, è stato molto bravo a convincermi a fare la regia perché aveva capito che avevo lo spirito giusto per farlo, è stato bravo a convincermi, mi sono divertito, è stata una bellissima esperienza. Non ti so dire qual è, sicuramente voglio continuare a fare l'attore, il regista è una cosa che mi ha divertito, può darsi che mi diverta ancora quando troverò un'altra bella storia da raccontare ma una storia mia insomma.